Ciao, se vedessi la telecamera in questo momento potresti ghignare, ma non sono qui per parlarti né della telecamera ovviamente né di me, sono qui per parlarti di Lorenzo, Lorenzo Cicetti se stai guardando questo video probabilmente ti starai chiedendo chi è Lorenzo e bla 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 e niente, ho conosciuto Lorenzo qualche anno fa, ormai, durante un seminario, durante una conferenza e abbiamo subito trovato un feeling, c'è subito stato uno scambio di idee, avevamo delle visioni in comune ed ecco che è nato il nostro rapporto lavorativo, abbiamo collaborato insieme, è un grande piacere collaborare da parte mia con Lorenzo, ma prima di tutto questo c'è un rapporto di amicizia con Lorenzo è una persona straordinaria, ormai nell'internet marketing da diversi anni, quindi se ti stai facendo qualche indovinello sul perché seguirlo, se seguirlo, a cuore aperto, seguilo, affidati una caratteristica che mi colpisce molto di Lorenzo è proprio la sua costanza, è una goccia cinese e con costanza e devozione e con grande amore continua a dare quelle informazioni estremamente utili per le persone che si vogliono affacciare al mondo dell'internet marketing e del network marketing è un grande professionista, quindi proprio libero, sereno, vai e segui Lorenzo perché è una persona che ti può dare veramente degli ottimi consigli per la tua attività afferra i suoi consigli e le sue pillole, seguilo con costanza effettua anche dei webinar, quindi segui i suoi webinar, segui, iscriviti alla sua lista contatti osserva quello che ti consiglia e segui Lorenzo un abbraccio grande a te che mi hai seguito in questo video e un abbraccio a Lorenzo ci vediamo presto, mi auguro di incontrare sia te che Lorenzo presto, ciao